Io faccio la differenza perché mi interessa, perché mi interessa fare attenzione a delle cose, perché mi interessa il futuro del nostro pianeta, mi interessa il futuro. Ho scelto Make the Difference perché, sempre per lo stesso motivo, perché mi interessa il futuro. Make the Difference si rivolge ai giovani e i giovani sono quelli, i padroni del futuro.